Ciao bambini, mi chiamo Diane e vorrei presentarvi uno dei libri che ho scritto e disegnato. Allora, vi presento un bellissimo librino per la più piccola sascia d'età, Prova a prendermi, e la storia di un gatto e di un topolino. Allora, una mattina, mentre il gatto sta dormendo, chi entra in casa? Un topolino, ovviamente, e seguendo questo bel profumino, troverà in cucina un bel pezzettone di formaggio. Ma verrà sorpreso dal gatto, che inizierà ad inseguirlo per tutta la casa. E il poveretto dovrà per forza rifugiarsi nella sua tana, dove il gatto non riesce a raggiungerlo. E quindi il gatto dovrà escogitare un sistema molto ingegnoso per farlo riuscire dalla sua tana. Spero che questa storia vi piacerà tantissimo, allora vi auguro una buona lettura e un buon divertimento!